Parapapapapara Parapapapapapara Aaaaaaaaaaa Suegnaaaaaaaaaa Mammaaaaaaa Oddio si torna agli ammazza che immazzo Si torna agli ammazza che immazzo che ormai 2-3 settimane che non si fa un miliardo più Si inizia con Jagger che è un buon Amico di Talisin che scaccola No mio no Mio no perchè è di la Quello è il Bruce Presley guarda Sei leggero Quindi non dirò niente Allora di Dio del Pattume Si esatto Saluta la mamma Allora la lista del mazzo è questa Talisin vi dirà la sua madre maniera di quello che riesce a leggere Allora è un mazzo bisonte con innervazione o radici viventi Radici viventi Maddonna ci ha rotto il cane Mamma mia Lo andata a leggere il mazzo Comunque è un mazzo Ktun No non niente No non sei il mago Non funziona con te Non hai trenato la classe major E' l'unica classe che sa giocare Assolutamente no E' una classe che fai schifo Dio Classe fai schifo a post L'unica cosa puoi fare E' sbattere questa cosa in terra No questo Ah giusto Essendo Jagger lasciamo la maglia del Napoli Che bello che lui non sta a Napoli Il fatto che sia meridionale Che vuol dire Che vuol dire Che c'è una batteria C'è una batteria 9 volt C'è una pila Allora dice che il mazzo si gioca da solo Quindi io premo conferma Che posso giocarla anch'io quindi Fa schifo questa mano iniziale Ma perchè sei stato da ranker Smart charging E sono i must trick che non perdo 12 hai detto Non mi ricordavo più Ci ho giocato stamani Trogg delle gallerie Quando attivi E' vecchia Ah ok Che faccio schifo Napoli Hai già rotto il cazzo Ma che novi Oddio potevi stuccarlo subito con l'ira Silvana Vedi? Si vede l'animazione No no spoiler Zitto Lo scusurremo solo vivendo O perdendo La domanda è Ce l'hai tu nel mazzo? Ce l'ho Ce l'hai tu nel mazzo? Hai già rotto il cazzo oh è già rotto il mazzo, ammazza che cazzo su Italia 1 sigla parapapapaparà 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 parapapapapaparà allora lui ha fallito in tutto lui ha fallo ho capito che paride perché è il pene che hai fatto? mi ha tolto un pezzo mi ha tolto l'asse devi aspettare che brilli ha brillato! mi ha interrotto! quella è quello che succede quando si gioca io no lascia stare, non aprile quella porta beh madonna mia! fargli vedere le ventine pescioline vedi che sto a giocare a airstone? le ventine pescioline dammene una allora ascolta allora è già rotto il cazzo non succede mai nuovissimo, levai il totem potremmo essere altre due no grazie per avermi offerto le mie ventine pescioline che vogliamo far vedere la nostra gentile clientela che abbiamo delle ventine a forma di pescino imbecille, cretino guai bada eh un guai è andato tutto fisso è andato tutto fisso è andato tutto fisso e quindi? e quindi spazzata e si ma dove? qua è trado trado ah è permanente il sovraccarico? no il prossimo turno ah il buff del sovraccarico è che è permanente è fortissimo però lui adesso ha due mani in meno due mani in meno è un francese allora esatto mi senti eh no no non essere così grasso oh si stava a rompere anche il... lo sgabello cos'è questo? mai m y l'opzione è se volete che tali si rompa lo sgabello chiamatelo 922 922 922 922 no il nostro ktune è già 10 vero? che è quella crocchio scuro? si che è quella crocchio scuro? ahia questo? l'accrocchio scuro che è? eh l'araco scuro l'accrocchio scuro che è? oh c'è già ktune è da più 3 più 3 ktune quando entra in gioco fine fine ah è a taunt le più scuse è poco sai chi è contento? non lui oddio quanti martelli ne hai sai che... e attacco due volte altrimenti questa è forte ma non è cazzo più bello del shaman costa 1 in meno? ogni volta che fai schifo vera? si costa 1 in meno però ogni totem è evocato ne ha evocati pochissimi è vero eh? ora o inizio a buffare no va bene sti cazzo baffami le palle baffami che si mi ha buffato le palle perchè ha 10? perchè lui quando entra in gioco o guadagna 5 salute e provocazione oppure 5 attacco oppure 5 attacco questa carta c'è da 4 anni su Ayrton e Ayrton è uscito 3 anni fa è la prima voce che la vedo Kekko guarda che bello l'alberino della guerra sembrava un muflone c'era Warcraft 3 cioè mi hai giocato Warcraft 3 si dici no fuori no mai fuori di pesci per te no pesci sono niente guarda c'è anche il totem a forma di pesce questo è un pesce ma provo a contare che cosa ma è vero quello è un pesce Kekko è un un tumurlok mi lo ascolto pure questo un turlok sono 2 4 danni mi stai già fai sudendo mi stai già pensando di fare qualcosa mi stai già urtando io anche io pensavo come hai fatto ad accorgerti mi stai già dando sui nervi no non c'è bisogno di usare questo mi piace che hai 2 danni o 1 e 3 ti prendi 2 danni in faccia hai 2 danni o 1 e 3 e 2 nooo potevi fare il crescita di col gioco si anticipavi di un turno che me ne frega lo gioco un turno dopo è un 19 e 19 becille 2 carte vorrei mettere in questo massimo cosa? quanto? è un 19 e 19 nooo però infatti devi uscire se prende 10 danni in faccia per ammazzare questo no il martello è Overwatch si finalmente no dio no è finito no è finito vaffanculo vai stronzo tocca vincere di nuovo Jager vaffanculo basta perché questo è tutto no no facciamo nemmeno un'altra grazie a tutti ciao ciao